Sicuramente è una bella emozione, inaspettata perché a inizio settimana non avrei mai pensato di giocare qui questa sera, quindi bello. Sicuramente a Salerno ho vissuto anni speciali e è stato... Ma devo dire che la gente di Salerno comunque sia con me è sempre stata così, nel senso penso di aver lasciato qualcosa e me l'hanno dimostrato negli anni. Quindi mi fa piacere, è stato emozionante, è stato sicuramente emozionante, come è stato emozionante rigiocare su questo campo, perché sicuramente ho dei bellissimi ricordi, anche se era un amichevole, però sono insomma belle emozioni. Come le storia limitate? Tante, quindi quando si ha un organico importante l'arma può essere a doppio taglio, nel senso che poi dopo bisogna trovare la giusta quadratura, avendo grande abbondanza di giocatori, giocatori forti. Quindi soprattutto anche l'ultimo giorno sono arrivati anche altri giocatori di qualità che alzano il livello tecnico, quindi sicuramente ha tutte le carte regola per fare un ottimo campionato. Poi ripeto, sarà insomma da vedere come si svilupperà durante l'anno.